Siccome lei più recentemente sulla questione scuola, chiusura scuola sì, chiusura scuola no, ha detto che praticamente attendeva la decisione degli altri sindaci, allora io la volevo invitare e le volevo domandare come mai ad esempio alcuni sindaci si sono seduti intorno a un tavolo insieme al Presidente dell'Anci Campania, il Sindaco di Caserta, per discutere di una serie di questioni molto importanti e che riguardano la pelle vive delle persone proprio in questo momento di emergenza sanitaria, economica e sociale. Tanti sindaci, diversi sindaci si sono seduti intorno a un tavolo insieme al Presidente dell'Anci Campania ed hanno discusso delle linee guida per i bandi spesa, hanno discusso dei BUC, tant'è che a breve e quindi io vorrei invitarla al Sindaco a prendere contatti con il Presidente di Anci Campania che ben presto convocherà un tavolo coordinato dal Sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, proprio per discutere dei BUC, cioè appunto il lavoro di pubblica utilità portati avanti dai percettori del reddito di cittadinanza perché a tutt'oggi non ci sono ancora progetti.